Sabato prossimo partirò per il viaggio apostolico a Cuba e negli Stati Uniti di America. Una missione a cui mi accingo con grande speranza. Motivo principale del viaggio è l'ottavo incontro mondiale delle famiglie che avrà luogo a Filadelfia. Mi recherò anche nella sede centrale dell'ONU, nel settantessimo anniversario di tale istituzione. Fin da ora saluto con affetto il popolo cubano e quello statunitense, che, guidati dai loro pastori, si sono preparati spiritualmente. Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera, invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e l'intercessione di Maria Santissima, patrona di Cuba, quale Virgen della Carità del Cobre e patrona degli Stati Uniti di America, quale Immacolata Concezione.